Nella seconda giornata del suo viaggio in Turchia, Papa Francesco ha raggiunto Istanbul da Ankara e all'aeroporto internazionale è stato accolto dal patriarca ecumenico Bartolomeo I e dal governatore della città. Quindi, per rispetto dell'ora di preghiera musulmana, ha cambiato programma e ha visitato la moschea Sultanahmet di Istanbul, nota anche come Moschea Blu. Accolto dal Gran Mufti, il Papa ha attraversato il grande portico ed è entrato nella moschea. Dopo una breve visita, come Benedetto XVI nel 2006, Papa Francesco si era accolto in adorazione silenziosa per circa due minuti davanti al Mirab, accanto al Gran Mufti in preghiera. Al termine, dialogando con il suo ospite, il Papa ha detto due volte dobbiamo adorare Dio, aggiungendo anche non solo dobbiamo lodarlo e glorificarlo, ma dobbiamo adorarlo. Lasciata la moschea, il Pontefice ha raggiunto il Museo di Santa Sofia, basilica dedicata alla Divina Sapienza, costruita da Costantino nel 360, distrutta più volte da incendio e ricostruita nel 532 da Giustiniano. Nel 1453 Costantinopoli cade in mano agli ottomani e Maometto II la trasforma in moschea. Dal 1935 Santa Sofia è un museo per volere di Ataturk. Al termine della visita, guidato dal direttore del museo, Papa Francesco ha firmato il Libro d'Oro ed ha scritto due pensieri. Il primo in greco recita Santa Sapienza di Dio, il secondo in latino, tratto dal Salmo 83, quanto sono care le tue tende, Signore.